alla battuta col mancino sul secondo palo c'è un colpo di testa il pallone dentro doccia fredda per la san cataldese arriva subito la rete del rende con novello laterale mette giù rotulo che prova ad andar via 2 ci riesce bene ancora riccardo rotulo di fronte a steppi scopo il pallone per balistreri il pallone che si alza al momento della conclusione del numero 9 quello subisce fallo calcio di punizione già battuto prova andare nella conclusione vincenzo lì che il pallone rimane lì e poi in due tempi il portiere del rende che rimane lì c'è fuschi appoggia sul rotulo ancora rotulo e ha cerchiato non trova spazio prova la conclusione col mancino c'è la respinta di mitica in calcio d'angolo venticinquesimo minuto di gioco nel corso del primo tempo il rende adesso prova ancora rendersi pericoloso attenzione la conclusione è il raddoppio del rende al minuto 26 con sidoti cambia ancora il parziale al valentino mazzola rotulo ancora rotulo si gira sul destro riesce a servire un compagno sess dentro l'area doppia conclusione il pallone che viene poi fermato finisce adesso il secondo tempo di san catalte se rende a 2 per il renda arriva il fischio prova ancora la conclusione manno mitica riesce a tenerla lì schi però ancora canino che prova la conclusione mitica riesce a respingere in qualche modo poi liga che prova il destra al giro novello novello fermato poi da calabrese pallone ancora tra i piedi dei giocatori del rende con sidoti per il tentativo di conclusione di furina al ventunesimo del secondo tempo fa il suo ingresso in campo vincenzo tuccio si gioca con rotulo che prova in volarsi in aria il pallone per tuccio ancora tuccio tuccio il sinistro e la saccatantesa la riapre al minuto 23 del secondo tempo entra e decide subito vincenzo tuccio ci mette poco meno di due minuti novello tentativo di cross deviato il pallone che rimane in possesso ai giocatori del rende trovato che prova la conclusione questa possibilità il numero 3 ancora lo curto pallone per tuccio che prova la conclusione dal limite giocatore del rende che rimane a terra si continua a giocare rotulo per manno ancora manno che va verso il centro prova la conclusione e trova la rete del 22 che destro che conclusione di emanuel manno neri non ci riesce fermato da de miranda poi rotula ancora sulla sinistra va rotulo prova ad entrare in aria il numero 8 ancora rotulo rotulo il pallone che viene allontanato a pochi centimetri dalla linea di porta da nardini apertura su liga che prova a mettere cross tuccio prova la girata grandissima occasione sul piede di vincenzo tuccio è tutto dunque dallo stadio valentino mazzola di san cataldo l'acqua di sanitario valentino mazzola 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 di sanitario valentino